In Valle d'Aosta un'altra società è stata raggiunta da un'interdittiva antimafia che la inibisce a lavorare con la pubblica amministrazione. Si tratta della Fly Cars SRLS, una ditta di autonoleggio con sede legale in via Porta Pretoria, nel capoluogo. È la decima azienda colpita da un simile provvedimento nella nostra regione dal 2015. L'interdittiva è stata emessa dal questore Ivo Morelli lo scorso 31 marzo. Ieri, con un'ordinanza, il TAR della Valle d'Aosta ha negato la sospensione cautelare dell'atto, respingendo quindi il ricorso dell'amministratore unico della Fly Cars. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del gruppo Interforze Antimafia, quella di Aosta sarebbe stata solo una sede formale per l'azienda, che invece avrebbe depositato segnalazioni certificate per l'inizio attività in Lombardia e in Calabria, ma soprattutto il titolare avrebbe avuto costanti frequentazioni con soggetti con precedenti penali anche di stampo mafioso e dunque rappresenterebbe un fattore di rischio per l'infiltrazione della criminalità nel tessuto economico e sociale. Una valutazione, questa, espressa prima dal questore e confermata poi dal Tribunale amministrativo regionale, che tratterà il ricorso nel merito il prossimo 16 novembre.